La prima volta che la vedi. Ma prima di parlare di lei, devo raccontarvi un po' di me. Quando ero piccolo, ci trasferimmo a Mike, Arizona. E io, come nuovo arrivato, attirai subito l'attenzione. Il che non fu positivo. Allora capì una cosa. Non dovevo dare nell'occhio. Nessuno mi avrebbe visto. Nessuno mi avrebbe sentito. Dovevo essere esattamente come tutti gli altri. E poi, un giorno. Almeno sai come si chiama? Stargirl. Il mio nome è Stargirl. Chiediglielo. Le piace? Non credo. Ti piace Stargirl? Neanche la conosco. Ti piacerebbe se la conoscessi. Mamma, hai mai avuto paura del giudizio degli altri? Provare a capire chi siamo? Penso che sia qualcosa che nessuno può fare per noi. Avevi qualcosa da chiedermi? No, a volte io sto zitto, ma... Perché penso? Urla, Leo. Perché dovrei farlo? Non vuoi che l'universo ti ascolti. Da quando è arrivata? Qui è tutto diverso. Alcune persone sono così. Quando sono con te, tu mi guardi più di quanto chiunque mi abbia mai guardato. C'è qualcosa in lei. È diversa dagli altri. Sai se è magica? Tu credi che le cose siano reali o magiche? Ma le cose migliori... Sono entrambe.